Così chiederti, il secondo tempo abbiamo visto la squadra di tutto l'anno sostanzialmente, eri in buona compagnia. Penso che si è visto che eravamo quelli dell'anno scorso anche perché le trame di gioco erano bene o male collaudate quindi abbiamo fatto anche magari meno fatica dei ragazzi del primo tempo che comunque sono arrivati da poco ma si sono amalgamati benissimo dentro il gruppo anche perché non lo scopriamo di certo noi adesso questo gruppo eccezionale quindi penso in un giorno abbiano già capito le regole che ci sono all'interno di questo gruppo e soprattutto i meccanismi che c'è all'interno di questo gruppo. Ecco, la classica prima sgambata da cui non c'è da trarre più di tanto insomma, intanto per capire un po' a livello fisico come state. Sì, questa diciamo che è stata poi una trasformazione del lavoro che stiamo facendo in questi giorni, insomma abbiamo fatto forza, abbiamo iniziato a fare delle distanze lunghe quindi oggi non si poteva pretendere più di tanto però abbiamo visto buone trame di gioco, potevamo finalizzare qualcosina meglio forse davanti ma la stanchezza e la poca lucidità, comunque dei lavori svolti in questi giorni ci ha tolto un po' di lucidità e quindi è stato anche più faticoso. Però dobbiamo anche abituarci a lavorare sopra la fatica, lo stiamo facendo perché comunque sicuramente andando avanti col tempo e in campionato sicuramente ce l'ha anche da faticare quindi devono essere preparati anche a quello. Ecco, come lavoro atletico, rispetto all'anno scorso, sono i primi giorni ma è lo stesso o c'è qualche variazione diciamo, visto che c'era anche l'anno scorso? No, abbiamo cambiato qualcosina comunque a livello di forza perché abbiamo cambiato anche palestra, c'è un'altra disposizione, una palestra migliore, più grande, abbiamo aumentato i carichi già da subito anche perché non siamo arrivati preparati da un programma pre-ritiro fatto dal nostro prof e sicuramente le distanze sono quelle perché in genere diciamo sono standard però adesso si inizierà a lavorare andando in giù perché le distanze lunghe abbiamo già fatto. Ok, grazie. Prego. Grazie.